Temptation Island Il reality show delle tentazioni chiuderà i battenti e avremo modo di vedere il fallò delle ultime coppie rimaste in gara, pronte ad affrontare il confronto con i rispettivi partner Lara e Michael, Martina e Giampaolo, Andrea e Raffaella saranno chiamati a prendersi le loro responsabilità, noi seguiremo la diretta minuto per minuto dell'ultima puntata in quest'articolo Anticipazioni Temptation Island Sesta puntata dell'8 agosto. Stasera è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island ma tuttavia la prossima settimana andrà in onda anche la sesta puntata finale di questa edizione Lunedì 8 agosto in Prime Time su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di questa quinta edizione dei record del reality show condotto da Filippo Bisciglia Un appuntamento speciale per ripercorrere il percorso delle varie coppie in gara quest'anno Verranno ripercorsi i momenti salienti di questa stagione ma saranno trasmessi anche dei filmati inediti sul post fallò delle coppie e quindi i risvolti una volta che si sono spenti i riflettori della trasmissione Mediaset Nel frattempo su Canale 5 sono arrivati i promo di Temptation Island Beat. La prima edizione con protagoniste coppie famose dello spettacolo e della televisione andrà in onda a partire dal prossimo 10 settembre in Prime Time e vedrà al timone la conduttrice Simona Ventura Temptation Island Diretta ultima puntata di oggi. Ore 21,16, si parte con il riassunto dell'ultima puntata in attesa del fallò finale tra Martina e Giampaolo Ore 21,22, inizia l'ultima puntata di Temptation Island. Si riparte dal confronto tra Martina e Giampaolo, lui scappa via dopo il lapsus della fidanzata che l'ha chiamato Andrea Filippo. Filippo riesce a placare gli animi e a riportarli al fallò finale. Martina non vuole passare dalla parte del torto nonostante abbia tradito il fidanzato. Ore 21 35, Giampaolo vede il bacio di Martina con Henry. Il fidanzato rimane senza parole mentre lei prova a giustificarsi in tutti i modi e dice di volere un uomo al suo pianto. Giampaolo prima di partecipare al reality ha scritto un bigliettino dove chiedeva di sposarlo. Ore 21,42, è il momento dell'esterna di Giampaolo che ha fatto un bagno di notte con la tentatrice. Martina critica il suo fidanzato. L'addio tra Martina e Giampaolo dopo il fallò finale. Ore 21,49, Martina e Giampaolo decidono di uscire separati dal villaggio delle tentazioni e quindi si lasciano. Ti amo tanto, dice Giampaolo prima di lasciarla andare via. Lei prima di abbandonare il programma chiede di incontrare il singolo Andrea. Martina lo ringrazia per le emozioni che le ha fatto provare ma ribadisce la sua decisione di andare via da sola dal villaggio. Ore 21,55, si passa ad Andrea e Raffaela. La ragazza vede un nuovo filmato del suo fidanzato che si lascia andare un po' troppo con la singol Teresa. Andrea piange ripensando al suo percorso ma ammette che vuole pensare a se stessa. Ore 22,08, Raffaela non riesce a trattenere le lacrime. Sta con me per pena dice piangendo a Lara. O vuoi stare con me o non vuoi stare, basta. Ore 22,12, dall'altra parte del villaggio, la singol Teresa decide di scrivere una lettera ad Andrea prima dell'addio finale in cui dice che forse questo non era il momento ideale per il loro incontro. Ore 22,18, è il momento del falò finale tra Andrea e Raffaela. La ragazza ammette di essere rimasta delusa dal comportamento di Andrea. Do importanza anche agli sguardi e i tuoi occhi li conosco. Ho tenuto duro nonostante tu mi abbia fatto vedere più video di tutte. Andrea e Raffaela vanno via insieme dal villaggio. Ore 22,26, Andrea sostiene di aver usato Teresa per capire se la loro storia d'amore è solo abitudine oppure no. I due rivedono tutti i filmati di queste settimane. Raffaela commenta indignata. Ore 22. 35, Andrea ammette di essere ancora innamorata di Raffaela. Lei però si sente tradita e si aspettava altro dal suo fidanzato. Non sono andato oltre con Teresa perché amo Raffaela, dice Andrea. Ore 22,47, Raffaela perdona Andrea. I due si baciano. Mi sei mancata troppo, te lo giuro, dice Andrea. E così i due escono via insieme dal villaggio delle tentazioni. Ore 22,58, è il momento di Lara e Michael. Il ragazzo prima dell'incontro al falò finale si è visto con la tentatrice, con la quale avrebbe voluto fare l'amore. Lara lascia Michael al falò finale. Ore 23,18, arriva il momento dell'attesissimo falò finale. Lara è agguerrita più che mai, pronta a smentire il suo fidanzato. Ore 23,23, Lara commenta schifata il riassunto dei falò che riguardano Michael. So che valgo qualcosa. Io ti ho difeso tutti i primi giorni. Io non voglio portare rispetto a chi non mi porta rispetto da due anni e mezzo. Ore 23,36, Michael chiede spiegazioni a Lara su cos'è successo con Giuseppe durante i 50 minuti in cui sono stati da soli nel villaggio senza telecamere. Lei smentisce di aver fatto l'amore con il tentatore. Michael vede i filmati realizzati a telecamere spente, dove parlava male di Lara e diceva di voler fare la vittima fino alla fine. Ore 00.00, Lara decide di abbandonare da sola il villaggio di Temptation Island e quindi lascia il suo fidanzato. Ore 00.05, un mese dopo il falò finale Michael ammette di essere stato un culo, e dichiara di essere innamorato ancora di Lara. Tra i due, però, non c'è stato nessun ritorno di fiamma. Michael si è sentito anche con la tentatrice e le ha detto di essersi innamorato di lei. Oggi l'ultima puntata di Temptation Island in tv, il falò d'avvio. Le anticipazioni sulla puntata finale di Temptation Island 2018 di oggi rivelano che stasera saranno due le coppie che arriveranno a dirsi addio al falò finale. La prima è quella composta da Martina e Giampaolo, quest'ultima, infatti, difficilmente perdonerà alla sua fidanzata il fradimento con il single Andrew. La bella Martina, infatti, si è lasciata andare fin troppo con il single del suo villaggio, tanto da arrivare a dargli un bacio appassionante. Situazione in bilico anche per Lara e Michael, dopo gli insulti e il perfido scherzo organizzato dalla ragazza, sarà difficile pensare che potranno andare via insieme dal villaggio delle tentazioni Mediaset. Occhi puntati anche su Andrea e Raffaella, quest'ultima ammetterà di essere delusa e amareggiata dal comportamento del suo fidanzato. .